ciao a tutti allora oggi voglio dedicare un brano al grande maestro zino finocchiaro la lampada magica una mazzurca di sua composizione che pensate da tanto tempo giro finocchiaro aveva il piacere che un giorno io la suonassi ebbene oggi voglio fargli questo regalo per voi la lampada magica proviamo la fisarmonica penso che si sente bene cambiamo registro ok andiamo un attimo di pazienza ci siamo ciao a tutti 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 ciao a tutti